Buonasera, buonasera, sono praticamente felice di essere questa sera per intervistare uno dei colleghi che maggiormente stimo, però io fissa la sigla parto da una curiosità, ho letto che tu sei nato in un castello? Sono queste leggende, diciamo che sono a proposito di fake news, la casa venne fatta però, è vero che sembra queste grandi ville Liberty nel biellese, che venne fatta dal nonno, perché quando si sposò, anzi bisnonno, per sposarsi regalò questa immensa bellissima abitazione che venne però fatta nei primissimi anni del novecento, all'epoca c'era una grande azienda, mille operai avevano, quindi bisognava avere una bella casa, perché c'era una famosa donna, una donna di cui si è innamorato mio nonno, per portarla via da Torino, secondo me hanno detto guarda che bella casa, e hanno investito sulla casa, non lo so, lo dico per dire, perché in fondo la mia nonna lasciò Torino, lasciò un certo modo di vivere andando nel paesino piccolo, biellese. Senti, ma è vero che a un certo punto Renzi ti aveva chiesto di correre come sindaco di Torino? No, non fu Renzi, però fu qualcuno che è molto importante che mi chiese, però avevo giurato questa, uscì su Repubblica addirittura, è vero, hai ragione, uscì tutta pagina, io ero d'estate, mi ricordo, in piena estate uscì, era vero, ma avevo fatto una promessa a questa persona che ancora oggi domina, cioè è nella vita politica, di non rilevare mai il nome, però non fu Renzi, era da un'altra parte, mettiamola così. Ecco, ma cosa ne pensi dei giornalisti che si mettono a fare politica? E' un po' come i magistrati, cioè per me un magistrato può fare politica però poi non dovrebbe più tornare a esercitare il proprio lavoro, perché l'essere super partes è fondamentale e nel momento in cui tu ti schieri politicamente devi assumerti poi la responsabilità e quindi anche i giornalisti che poi tra l'altro anche importanti nella nostra storia, Lili Gruber, Santò, poi se ne sono andati abbastanza in fretta, quindi non credo, non lo so, io credo che ognuno di noi debba fare il proprio lavoro nel suo luogo, anche perché poi alla fine diventano dei peones, non è che incidano perché sono personalità scomode, ho la sensazione che spesso la politica abbia bisogno di soldatini, quindi uno che fa il nostro lavoro ha una personalità, poi può piacere o meno e quindi trova difficoltà a star seduto, a schiacciare un bottone e non incidere, questo penso che sia, oggi però un sindaco, molti vedono il sindaco qua in prima fine, i sindaci hanno poteri, i governatori hanno maggiori poteri, quindi può darsi che sia diverso, però non ci ho mai seriamente pensato. Senti, a proposito del giornalismo, ho letto una ricerca che dice che la categoria, meno apprezzata dagli italiani, all'ultimo posto ci sono i politici, al penultimo ci sono i giornalisti, anzi c'era una ricerca dell'Università dell'Illino Subria che dice che gli italiani in media si fidano più del loro barbiere che dei giornalisti, perché? qui dobbiamo fare un po' di mea culpa perché in realtà, poi tra l'altro quando ci sono pochi editori liberi veri, pochissimi, anzi ce n'è uno, tutti gli altri comunque rispondono a un certo tipo di sistema e quindi io ho sempre detto che non mi dispiaceva il periodo in cui c'era Rai 1, Rai 2, Rai 3, TG 1, TG 1, TG 3, Tempi di Cabool, quello è con Sandro Kurt, perché tu vedevi uno, due, tre e ti facevi un'idea. è difficile fare il giornalismo se hai il tuo proprietario, è un editore che è impegnato legato a un certo sistema, è molto complicato, sopravvivere senza ricatti della pubblicità che non ti arriva, è veramente complicato, quindi penso che il barbiere sia un punto di riferimento di un certo tipo di cose, in realtà io mi fido di certi giornalisti, non di tutti e credo che si debbano fare ancora tanti passi avanti, ma è sempre più difficile. Senti, sui giornali è stato scritto più volte che il tuo attuale editore starebbe pensando di fare come quell'altro, di scendere in campo. Se questa cosa accadesse, tu cosa faresti? Beh, in fondo, storicamente, Cairo nasce come assistente di Berlusconi, anzi, fece la fortuna di Berlusconi, perché gli fece fare grandi introiti, perché aveva una grandissima capacità, vendeva il prodotto come nessun altro nella storia del gruppo Fininvest all'epoca avesse fatto, quindi Berlusconi lo amava, so che lo amava molto e una parte di lui probabilmente può pensare a un domani, a una discesa, come diceva Berlusconi, in campo. Non so però quanto gli convenga, perché ho visto che tutti gli imprenditori che sono andati al sistema poi hanno avuto solo grane, in realtà, hanno avuto anche molti vantaggi, perché Berlusconi indubbiamente ha fatto incassi importanti, no? Sì. Quindi, poi, però, ha avuto anche un sacco di grane, in questa storia. Io glielo sconsiglio, ma credo che in un sistema Italia, dove il carisma di chi ci gestisce è abbastanza scarso nella globalità, poi ci sono le dovute eccezioni, come sempre, un uomo che in fondo ha preso la sette e l'ha risanata, ha preso il corriere e l'ha rimesso a galleggiare, abbia delle qualità importanti, per cui potrebbe anche essere l'utile del Paese. Per me sarebbe negativo, nel senso che poi tu sei uno che fa un programma come il mio, molto borderline, quindi spero che lui, se decide di farlo, venda la televisione, venda i giornali. Però non sono io a dover decidere. Certo. Anche perché non sarebbe poi attaccabile da quel punto di vista. Senti, tu però, con editori politici, ce l'hai lavorato per un sacco di anni alla RAI. La RAI, dipende. Secondo te, quando ti hanno tolto il programma, sostanzialmente, qual è stato il punto di rottura? La goccia che ha fatto traboccare il vaso per l'editore? Ma di goccia credo che ce ne siano stati tanti. Sì, però si arriva sempre a... Ma guarda, io sono rimasto un po' sorpreso una volta, quando avevo fatto una puntata molto dura sul fatto che si erano dimenticati, e ancora oggi si sono dimenticati, dei terremotati dell'Umbria, di parte delle Marche, lasciando gente senza riferimenti distrutte, delle case distrutte, gli avventi... Ecco, lì ho feci una puntata molto dura. La feci anche quando ci fu quella tremenda nevicata che mise ancora più a terra centinaia e migliaia di persone che avevano già perso tutto, dove vedemmo l'inadeguata risposta da parte di chi doveva intervenire. Perché sai, uno può pensare che in Sicilia non nevichi, ma non può pensare che in Abruzzo, nelle Marche, venga una nevicata importante. E quello che avevamo visto, mi ricordo anche con Ventana, eccetera, ecco, lì ebbi degli attacchi molto precisi, che mi stupivano, perché in fondo dovevano stare dalla mia parte, perché dire semplicemente che la macchina non aveva funzionato era una parziale verità, ma ne ho avuti tanti, credo di aver pagato molto i vitalizi, la battaglia contro i vitalizi, perché la battaglia contro i vitalizi a parole la fanno in tanti, poi all'epoca in realtà in Parlamento io feci vedere chi aveva votato a favore, 10 contro 489, quell'immagine ce l'ho ancora oggi, e credo che che i vitalizi, la mia battaglia contro Capanna, contro certe cose, per cui ho pagato un altro, una sanzione, ecco, quella è stata trasversale. Cioè la sanzione? Spiegaci. Beh, quando venne Capanna, io la Capanna l'ho sempre visto come difensore degli ultimi, l'avevo visto uomo delle barricate, eccetera, scoprirlo difensore della casta, dei privilegi di una casta, mi stupì molto. Lui era venuto con un suo libro doveva parlare di tante cose, parlavamo anche dei vitalizi, ma certamente io non ho mai contestato il vitalizio in sé, credo che se un politico fa un certo tipo di attività, molti anni debba avere un riconoscimento di questi anni dati alla politica. Il problema è che noi scoprivamo cose che non stavano in piedi, perché nessuno italiano dopo un giorno di lavoro aveva allora diritto a un vitalizio di 1.500-2.000 euro al mese, solo un giorno di lavoro. Nessun italiano dopo cinque anni c'era una legislatura, aveva diritto a determinate privilegi, quelli sono dei primi leggi, avendo poi versato pochissimo come contributi. Capanna sorrideva mentre io raccontavo invece una storia di una donna, ero arrivato alla stazione di Roma Termini, andavo a prendere un giornale e ho trovato davanti una cassetta di carta e c'era scritto un nome offerto per questa donna e chiesi chi fosse Rosa. Mi raccontò l'edicolante che era una madre, una rumena, madre di tre bambini che abitava a Pomezia, tutti i giorni prendeva il treno per andare da Pomezia a Termini, da Termini scendeva alle quattro e mezza, di mattina si alzava, alle cinque prendeva il treno, arrivava, scendeva di corso, andava alla metropolitana, andava dall'altra parte di Roma. Quella sera, per cercare disperatamente di prendere il treno alle sette, ha fatto una corso e è morta di infarto, lasciando tre bambini. Mentre io raccontavo sta storia, davanti a me c'era qualcuno, Capanna, che rideva. Ecco, quella cosa non era inquadrata, quella cosa mi aveva fatto veramente male e presi il suo libro e me ne andai e lo scagliai. Ho pagato 20.000 euro, quindi non è un problema, lo rifarei cento volte. A proposito dei libri, tu hai adesso in libreria un libro che si intitola Le Dannate, se non sbaglio, giusto? Sì. E' la storia di queste tre straordinarie sorelle Napoli. Perché hai deciso di puntare così tanto su questa storia? Che in fondo è una storia minima della Sicilia, è una storia di mafia, ma è una storia minima rispetto alle tante storie di mafia che ci sono in Sicilia. Ma perché infatti quello che dici tu era il pensiero dei miei autori. Quando io mi sono ritagliato un articolo a settembre del 2017 di Salvo Palazzolo, che è un grande giornalista che conosce molto bene la mafia di Repubblica, l'avevo messo da parte, come spesso faccio, passano due o tre mesi e avevo chiesto ai miei andiamo a occuparci di questa storia, mi hanno detto ma no, in fondo è una storia banale, però mi ero chiesto come mai Salvo Palazzolo, è come se tu scrivessi un pezzo su una storia di cronaca minima, perché uno dalla qualità come Gomez va a scrivere una cosa così? Ci deve essere un motivo in più. Allora cercai di indagare e scoprì che in realtà questa storia, le dannate, vedo qui il libro, grazie che poi mi fermo, vengo lì da te, è una storia minima, ma in realtà racconta il dramma di tre donne sole, abbandonate da tutti, nel momento in cui difendono la terra di loro padre, che non vogliono dare alla mafia dei pascoli. Quindi il fatto che ci fossero queste tre donne, che con coraggio andavano, volevano tenere a tutti i costi questa terra e vedere l'altra parte della cittadinanza che si mette con chi vuole invece toglierla, fa passare per pazze, quant'altro, mi ha fatto pensare molto, perché quante donne sole ci sono in tutto il nostro paese? Quante donne sole che cercano una mano e nessuno gliela dà? E in fondo, scrivendo un libro, dico anche che queste donne rappresentano l'altra Sicilia. Non è vero che io racconto la Sicilia che non va, io racconto la Sicilia che vuole cambiare. Cioè queste donne sono siciliane, chi le ha aiutate? Un maresciallo siciliano giovanissimo, chi ha comprato l'ultimo prodotto della loro terra? Un altro siciliano che mi ha dato retta, ho supplicato, vagli a comprare questo grano, vagli a comprare questo fieno. Ecco, è una storia che può essere applicata in tante parti d'Italia. Senti, a Mezzo Iuso, Mezzo Iuso è il paese dove vivono queste tre signore ed è anche un paese molto famoso nella storia della mafia perché è un paese dove è stato nascosto in un casolare, dava i suoi appuntamenti Bernardo Provenzano. A Mezzo Iuso attualmente è in corso un accesso da parte del prefetto, cioè per vedere se c'è un condizionamento da parte di Cosa Nostra. Tu l'hai, quando sei stato a Mezzo Iuso e sei stato minacciato dal sindaco di lato del Farabutto, hai respirato la mafia o hai respirato qualcosa di diverso? Beh, insomma, la mafia, noi pensiamo sempre, lo dico a tutti, sono stato di recente all'Università Bologna e ho detto guardate che la mafia non è la mafia con la lupara, la coppa, cioè quella è finita, in Emilia Romagna la mafia è lì, in Lombardia la mafia è lì, in Piemonte è lì, in Val d'Aosta pure, cioè dobbiamo avere gli occhi molto attenti perché non è come ci raccontano, cioè la mafia i soldi li fa, li gira nelle grandi città e certamente quel sindaco rappresenta un modo culturale di minimizzare tutto, io mi ricordo che disse qua a Mezzo Iuso non è mai successo niente, non c'è mai stato un fatto legato alla mafia, come? Nello stesso processo da trattativa Stato-Mafia si passa da Mezzo Iuso, lo sai, benissimo, io studiando poi le carte, pensate ho trovato un giorno tre persone che erano come, una persona che era come le sorelle Napoli che si opponeva, non voleva accedere alla propria terra, l'hanno trovato ammazzato e il suo cavallo con cui girava questa terra impiccato a un albero, guardate che impiccare a un albero un cavallo è una cosa pazzesca, ma dovevano dare un segnale a tutti i contadini che non si dovevano ribellare, la terra non poteva essere presa dai contadini, i contadini erano solo lavorarla, non potevano riscattarla, non potevano diventare proprietari, sto parlando degli anni 70, le sorelle Napoli hanno trovato tutti i loro cani sgozzati, escoiati vivi, appesi alla loro proprietà, tralascio tutto il resto. Quindi quando io mi sono visto di fronte a questo atteggiamento del sindaco, non mi ha più stupito quando ho scoperto che il sindaco era andato alla tumulazione di Don Cola, Don Cola era il capo mafia locale, era l'uomo che portava i pizzini, gli ultimi pizzini a Provenzano, quindi doveva essere l'annello finale di massima sicurezza, perché Provenzano era il ricercato più importante d'Italia, quindi doveva affidarsi dell'uomo che portava i viveri, perché era quello che sapeva dove stava. Quindi quando un sindaco va a un funerale vietato, cosa devo fare? Alzo le mani, sono contento che Salvini abbia mandato gli ispettori, io spero che si faccia chiarezza su questa vicenda. Salvini, tu l'hai intervistato anche recentemente quando ha scoperto la questione dei migranti, eccetera. Come lo definiresti e cosa pensi di lui? È l'uomo che usa meglio i social, deve avere un gruppo di ragazzi molto svegli, ha capito che oggi, mentre ai tempi di Berlusconi si conquistava con la televisione, oggi si conquista in un certo modo di… tu hai superato i 5 stelle annichilendoli proprio su questo, sa usare il mezzo come Instagram, dove si fa vedere di tutto e si scrive nulla di contenuto, ma si fa vedere. E' l'uomo che ha portato… guarda, la qualità sua qual è? Vi ricordate quando ha vinto le elezioni? Ha vinto le elezioni e hanno fatto un collegamento con il PD che comunque aveva vinto, diciamo anche lui, non era morto, era stato lì. La stanza dove c'era Salvini c'era di tutto, la maglia del Milan, un tapiro, qualcosa del genere, c'era di tutto, gli scaffali del PD dove c'era Zingaretti erano vuoti. Ecco, lui vince dove praticamente si fa sentire uno di noi e riesce a trasmettere con degli slogan che a volte sono fortunati, tipo prima gli italiani a entrare dentro, riesce a vincere su questa forza qua, arriva alla pancia, eccetera. Adesso dovrebbe fare uno scatto che è molto più importante, molto più delicato. Io tante volte ho chiesto in diretta a lui se non fosse il caso di arretrare una certa violenza dialettica, eccetera, però lui arriva su questo e vince su questo. Tu pensi che Salvini, come sostengono alcuni, sia razzista? No, non è nazista. No, non nazista, razzista. Non nazista. Eh no, siccome avevano detto, no scusami, sei perché nazista. No, no, perché io ero andato dalla Gruber ed era uscito anche questo discorso, non c'era chi sosteneva che aveva delle persone, effettivamente, voi sai, il problema è che negli staff c'è tanta roba, ecco, quindi, no, no, bisogna intendersi, il problema del razzismo e dell'immigrazione è un problema, la destra ha la fronte in un modo, la sinistra non ha altro, la paura è un sentimento che vivono, hanno vissuto e continuano a vivere molti italiani, la stramardioranza degli italiani, la sinistra non ha mai risposto a questa cosa e Salvini ha risposto, ha capito, è andato lì, ha gioco più facile come ministero rispetto a Di Maio che ha tutti i problemi dell'industria, eccetera, lui lì è andato dritto e gli italiani sono dalla sua parte, questo penso sia abbastanza nei numeri, poi giusto o sbagliato, no, non credo sia un razzista, però bisogna sempre stare molto attenti alle parole, perché poi quando tu parli alla gente parli a persone che magari non hanno i filtri. Di Maio, secondo te il peggior difetto di Di Maio qual è? Ma guarda, tutti attaccano Di Maio, io credo che Di Maio tenga in piedi un movimento che è giovane, fatto di persone non esperte, politicamente non esperte, dove c'è di tutto, nel bene e nel male, che è nato da pochi anni e che in questo momento vive una situazione molto complicata. Il vero rischio di Di Maio è di perdere, quando tu perdi il discorso, hai fatto le battaglie sul TAV, poi le perdi perché lo stesso mini premier ti sconfessa, dicendo che si deve fare. La stessa cosa sul TAP giù in Puglia. Adesso vedo che Salvini ha alzato, parla di inceneritori, se inizi a perdere le tue radici, i tuoi elementi su cui hai fondato le tue battaglie, rischi un po' la disgregazione del movimento. Io non mi stupirei che tra un po' il movimento si spacchi in due. Senti, tu hai cominciato a fare il giornalista... Però ritengo che tenere la barra ferma di un movimento complicato, complesso come quello del Cinque Stelle sia un merito. Poi può piacere un meno Di Maio. Però in questo momento storico, io devo dire, dobbiamo dirlo anche in passato, il Movimento Cinque Stelle è fatto da catalizzatore impedendo che succedessero cose strane, che la protesta fosse una protesta civile, sensata, pur con delle forme estremistiche di dialettica anche lì. Però nel nostro paese non ci sono stati i rischi che potevano esserci in un passato recente. Tu hai iniziato nel 1900, fine anni Ottanta, con Mixer, se non sbaglio. Ma io non ho capito una cosa. Tu ti sei laureato in giurisprudenza, dopodiché sei andato a Londra. Ci pensavi di fare il giornalista? Come è nata questa cosa? No, 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 no. Assolutamente no. Io proprio pensavo... non sono nato con l'idea di fare questo lavoro. Qui c'è il mio amico Zanone da qualche parte che mi conosce bene, che lui è biellese, aveva il padre che aveva una bellissima azienda a testi come mio padre. Io pensavo nella mia mente di andare a lavorare in azienda da mio padre, perché l'azienda è del 1882 e quindi dentro il mio cuore c'era questa idea. Che ho fatto? Io dopo la laurea in giurisprudenza ho fatto un periodo in Inghilterra, in questa università, facevo l'assistente perché c'è un dipartimento italiano. Poi sono tornato in Italia, ho visto che i tempi per diventare assistenti, la solita meritocrazia inesistente, insomma parliamo... sono andato a lavorare con mio padre. Due anni durissimi, molto belli, ma avevo capito che era impossibile stare insieme a lui. Del resto anche i miei due fratelli avevano provato, sono andati. Però mentre ero lì io guardavo un po' la televisione, perché è un piccolo paese, la sera volevo guardare la televisione, non volevo andare fuori, non me ne fregava niente. E Mix era un gran programma. Trovavo che un ragazzo con me mi diceva, cavolo, se dovessi mai un domani cambiare lavoro, voglio andare lì. Ti dico anche questa. Mio zio è stato direttore generale della CIR, la finanziaria di De Benedetti. Fossi stato un po' raccomandato un posto alla Repubblica, da qualche parte, come ultimo uscito, ma non gli andai a chiedere quello. ho cercato la mia strada telefonando a un centralino della RAI e quando sono deciso di andarmene via ho detto voglio provarla. Ci ho messo un anno, è stata molto lunga, ma alla fine sono contento perché mi diedero un contratto di un mese, Minoli mi hanno diede così. Scusa, hai telefonato? No, raccontala bene. Te le un giorno alzi e chiami. Allora, io mi sono fatto dare il numero, proprio il centradino RAI, nel momento in cui me ne sono andato da mio padre, ho detto voglio, mi do un anno di tempo e provo a fare questa cosa. Mio zio, direttore generale della CIR, mi disse, ma la RAI è impossibile, bisogna chiamare, fai chiamare. No, ho detto, non voglio che tu chiami nessuno. Lui mi disse, vabbè non chiamo nessuno, però sappi che io ti posso far prendere come assistente del direttore generale a un'azienda di Cardiff che faceva componentistica di automobili. Cardiff, io sono stato in Inghilterra, è la città più piovosa dell'Inghilterra. Questo già mi deponeva a sfavore, però ho detto voglio provarci, chiamai, chiamai, ovviamente io parlavo con una tale che si chiamava Dora Ricci, che era la segretaria di Minoli, la quale mi diceva, ma tergiversava, dico, ma lei, chi la manda? Perché lei vuole capire chi c'era. Io dico, guardi, nessuno, però io ci credo molto, voglio fare questa cosa. Sei mesi, un giorno sì, un giorno no. Alla fine, io l'ho saputo dopo, lei per disperazione disse, senta Minoli, riceva sto giletti, ce lo togliamo dalle scatole e così lo boccia, eccetera. Io andai, invece Giovanni, secondo me, rivide in me un po' lui da giovane, perché era torinese come me, laureato in giustizia come me e aveva avuto un'esperienza nel tessile come me, che io non sapevo. Probabilmente ha detto, diamogli una chance, però mi ha fatto andare altre dieci volte, ma alla fine sono contento che sono arrivato da solo. Tu con Minoli hai avuto un rapporto di odio e amore, è esatto? Proprio odio. No, io di amore, nel senso che gli devo tanto, perché uno di quei, insieme a Santoro, sono quelli che, poi uno, ripeto, può piacere uno l'altro, però era gente che stava lì H24, che aveva grande passione, che ti raccontava un mestiere, ti rappriva la mente, mi disse mai vedere una... la prima verità non è mai la verità, cerca l'altra. E' chiaro che poi, quando cresci, i meccanismi si inceppano, il padre che vede il figlio, i successi, ma non va bene, non fare questo. Io a volte ho fatto delle cose anche magari che non andavano, dal punto di vista suo, però dovevo trovare la mia strada solo. Però è molto amore, qualche volta un frammento di tensione. Senti, quando... io dico, quando ti hanno cacciato la RAI, perché in realtà hanno creato... Sì, ma avevi fatto la domanda prima, io poi lo penso. Torniamo a quel punto. Tu hai ceduto nelle tue interviste, dici, io so che l'esecutore è stato Orfeo, ma il mandante non lo dirò mai. Perché non lo dirai mai? Perché non hai la prova? No, non ho la prova, perché quando glielo chiesi al direttore generale, a Orfeo, gli dissi, guarda, facciamola in fretta, finiamola in fretta, voglio da te, siccome ci conosciamo tanto tempo, almeno che tu abbia il coraggio di dimmi il nome. E ovviamente lui dice, ah ma non esiste, non esiste. Io non credo che non esista, per un semplice motivo. Quando uno fa 4 milioni di ascolto in un programma RAI, sono dei numeri serali di quelli che vanno molto bene, rinunciare a 7-8 milioni di pubblicità su quello, mi sembrava che fosse una logica non industriale, certamente, ma fosse una logica che spingeva ad altro. E sarebbe stato bello, anche onestamente, intellettualmente, avere il coraggio di dire perché io venivo messo alla porta. Non solo io. Scusa, ma tu lo sai perché l'accusa che ti veniva mossa, più o meno da tutti, era tu fomenti l'antipolitica. È vero che commentavi l'antipolitica. Forse, ogni tanto ancora me lo dicono, forse anche noi abbiamo spinto, io dico sempre che la politica è l'unica strada per gestire un paese, se noi buttiamo giù tutto è un errore gravissimo. Bisogna mettere i politici competenti in quei posti, quindi è colpa anche nostra, perché se a un certo punto sono anni che non riusciamo a trovare una classe politica importante, vuol dire che qualche responsabilità ce l'abbiamo anche noi italiani. Io ho le mie idee, sono convinto di sapere chi è, però in realtà probabilmente trasversalmente davo fastidio. Abbiamo fatto vedere quello che non andava, quello che la politica non capiva. Io stesso dissi 5 anni fa a Renzi, dissi guardate che poi se non cambiano queste cose non dovete lamentarvi se poi voteranno i 5 stelle. E così è stato alla fine, ma c'erano tutti i tempi per bloccare una deriva, tra virgolette, come viene definita populista. Quanto contava? Un conduttore come te, a parte nell'ultimo periodo, un giornalista come te. Doveva avere dei rapporti buoni con i potenti, dovevi coltivare delle relazioni? No, 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 io non sono mai andato ai palazzi, non sono mai andato ai palazzi. Avevo la fortuna che comunque avevo avuto la mia storia dei direttori che vivevano nei palazzi bene, che però mi hanno sempre protetto, nel senso che io ricordo Leone, figlio dell'ex Presidente della Repubblica, quindi uomo sicuramente di palazzo, ma era un uomo di prodotto, cioè un uomo che mi ha sempre difeso. Perché? Pur tirandomi a volte da una parte la giacchetta, l'orecchia eccetera, però era un uomo che sapeva che chi fa 4 milioni è un bene per un'azienda e va tutelato. Il problema è poi che la politica si serve, vanno via certi uomini e arrivano altri che non hanno la capacità di dire e di difendere, anzi vengono usati per. E questo è il limite enorme. Io sono entrato in una RAI che era, come dicevo prima, ben divisa, ben politicizzata, ma gli uomini di prodotto erano uomini di grande qualità. E la qualità è qualcosa che purtroppo oggi nel nostro Paese manca. La competenza manca. E in questo c'è una grande responsabilità della politica. La politica è troppo dentro tutti i sistemi. Uno che fa il primario, ma io non ho capito perché deve passare attraverso la politica. Un direttore generale di un ospedale, ma viva Dio facciamo i curricula. Questo dovrebbe essere un Paese. E allora sono convinto che andremo meglio. La politica deve fare un passo indietro. Quando tu mi dici, per esempio io fossi stato uno nuovo al potere, siccome si parla del governo del cambiamento, io non avrei cambiato i direttori o cosa. Cioè o meglio, siccome noi abbiamo un controllo, tu lo sai meglio di me, alle 10 escono i dati cosa fa un programma. Una rete vale per quello che fa il direttore, l'espressione di quella rete. Se quello ha fatto un anno bene, due anni bene, ma perché arrivo io? Io non me ne frega niente se uno è di destra o di sinistra. Io penso che questo Paese dovrebbe smettere di questa roba qua e guardare le persone. Se quello è valido, io arrivo proprio perché sono del cambiamento, tu rimani al tuo posto perché hai fatto bene. Se non hai fatto bene, ti cambio e allora sono autorizzato a mettere qualcuno più in sintonia col mio pensiero politico. Ma se hai fatto bene, basta. E invece anche questa volta mi hanno perso l'occasione. Senti, a proposito di governo del cambiamento, ma tu il cambiamento lo vedi? Beh, il cambiamento... adesso pretendere che in un anno... Allora, il problema è che le cose se ne sono fatte. Però se tu stai sempre a litigare tutti i giorni, a fare un copione di sceneggiata quotidiana, passa il litigio, passa tutto il resto, non passano le tante cose fatte, perché delle cose sono state fatte. Io personalmente mi sarei messo subito all'opera per fare lo stanziamento di miliardi bloccati per investimenti. Invece ho visto che l'hanno fatto adesso, dopo tante polemiche, Toninelli e non Toninelli e tutte le cose. Io avrei agito subito su quello, perché il lavoro è la chiave di svolta di tutto il paese. Se parte il lavoro, parte tutto un sistema. Però io non sarei così duro, critico. Perché anche sul TAV, tu mi dici il TAV, beh, capito, le litigano, fanno, poi si fa, si è perso un anno. Beh, il TAV è stato di 30 anni quasi, eh. Cioè, qualcuno si deve dire, ma perché non l'ha fatto prima? Eh, se era così impellente, necessario, eccetera. Poi che si debba fare, se sono accordi internazionali, io sono, perché se uno sigla un accordo e non arriva l'altro governo, nega, per me è un errore grave, perché la credibilità internazionale è fondamentale in un paese. Però penso che abbiano fatto cose, spero che ne possano fare altre, soprattutto sul lavoro. Lo vedremo nel giro di sei mesi, certe. Le cose che vedi che ha fatto positive questo governo e quelle negative? Beh, spazza corrotto è quella più importante, perché la corruzione non è solo un fatto, poi devono applicarla anche i magistrati, sul Celeste mi lascia un po' perplessa questa cosa, sul Formigoni mi lascia un po' perplessa il fatto che sia tornato agli arresti domiciliari, nonostante questa legge, però la corruzione ha dei costi economici altissimi e quindi se si combattesse davvero la corruzione si potrebbero incassare molti soldi per spenderli per altre, destinando ad altre situazioni. Quindi questa, secondo me, è la migliore in assoluto. Perché io credo in questo, bisognerebbe poi investire molto sulla giustizia, non l'hanno fatto, io aspetto sulla giustizia, perché in Italia che ci siano processi che durano dieci anni, otto anni, nove anni, non solo per chi vive qua, ma anche per le aziende dall'estero, nessuna azienda estera viene in un paese dove non sa quello che succede con i magistrati. Questo al di là del fatto che il ladro stia fuori, stia un giorno in galera e poi esca dopo tre, quattro giorni, quello è una cosa che ci colpisce, ma io guardo molto più in là. Quindi per me erano fatte cose. E cose che hanno fatto che non ti sono piaciute c'è. Ma io non credo al reddito di cittadinanza, l'ho sempre detto, io penso che il reddito di cittadinanza sia... Allora, bisogna sostenere chi è in condizioni di grande povertà. Però quando tu mi dici, abbatto la povertà, non c'è più povertà per 5 milioni di persone, è uno slogan, è difficile che una bacchetta si risolva, cosa che abbiamo visto poi con i fatti. E allora avrei aumentato i fondi destinati alle persone che hanno veramente tanti bisogni, ma il resto l'avrei investito per me sulle industrie, cioè il problema dell'Italia che paghi troppo, i costi dei dipendenti sono molto alti. Ma tu vai da un... ero in Sardegna pochi giorni fa, c'era un ragazzo che sta investendo, mi dice io ho preso tre ragazzi qua, ma è difficile gestire questi costi. Quindi avresti dovuto fare il famoso cuneo fiscale e aumentarlo ancora da un contributo più importante. Quello l'avrei fatto subito. Come ti immagini Massimo, te fra dieci anni? Cosa farai? Ti immagini ancora condurre un programma? Cosa ti piacerebbe fare al posto di quello che stai facendo? Ma intanto ho 57 anni, quindi tra dieci anni e 67. Se potessi dire vorrei godermi un po' di più la vita. Nel senso, io sono fortunatissimo, però sto H24 al chiodo. Tranne il periodo di metà luglio, agosto, che poi non sempre così, perché una volta ti mandano in Rai, un'altra volta devi fare casini vari, quindi sei sempre in ansia. Io ho fatto tanto, ho avuto tantissimo... forse rimanere nell'ambito televisivo sì, magari con dei ruoli più... dei tempi di lavoro minori, perché girare il mondo sia la cosa più bella che ci sia. Io l'ho girato tanto da giorni, questi ultimi anni pochissimo. Mi piacerebbe girarlo con serenità, sapendo che non mi succede niente, che devo tornare. Ecco, mi piacerebbe ridurre... magari stare sempre in televisione, ma fare qualcosa di più mirato e più corto nel tempo. Senti, su Giletti privato, perché adesso ci divertiamo. Allora, io non ho capito. Dicono tutti che tu abbia un successo mostruoso con le donne, ma è dovuto al fatto che sei particolarmente abile o con la componente televisiva conta tantissimo? Ma beh, allora... Perché c'è questa cosa, uno mette la faccia in televisione e diventa immediatamente... No, beh, questo è ovvio, perché io mi dico sempre, se uno avesse la tuta da meccanico, stesse lì... perché vedo dei colleghi che non è che siano granché, però... Hanno avuto donne pazzesche, cose... Io, devo dire, la mia strada da ragazzino l'ho sempre vissuta abbastanza intensamente. Mentre i miei fratelli erano molto tranquilli e avevano la fidanzata, io sono sempre stato abbastanza movimentato. La televisione, è chiaro, amplifica tutto, rende più facili i rapporti, quindi io non mi sono mai sposato, perché so i miei limiti, ecco. Già mia madre è stata martire di mio padre. Non vorrei creare altri martiri. Però sei stato martire anche tu. Se non sbaglio, ben tre volte sei stato vittima di stalker? Eh sì, quello sì, quello sì. Cioè, tre volte? Quello è un po'... Cioè, è strano che capiti tre volte. Non sbagli qualcosa tu, perché ognuno nella vita può capitare a tutte. No, 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 no. Perché chi fa televisione succede spesso, volentieri. Anche con tragedie in corso, perché una di queste storie fu una storia abbastanza... Cioè? Fu una storia abbastanza delicata. Era la signora che sosteneva di essere tua moglie? Brava, certo. Lui aveva una signora che sosteneva di essere sua moglie, ma non è che lo sosteneva in giro. Ha fatto pure... Lo sosteneva, andava proprio a casa dal tuo portinaio, o so. No, allora, il massimo fu, mi chiama il direttore, mi ricordo il direttore, mi chiama e mi dice cosa fai... era, non lo so, mi sembra che fosse, ma giugno, non mi ricordo più, prima dell'estate. Mi fa, cosa fai il 13 di settembre? E io dico, non lo so, cosa viene... Eh, come non lo sai, dico, ma io non lo so, il 13 di settembre, siamo a giugno, il 13 di settembre non lo so, c'è un programma, dico, no. Mi è arrivato questo, mi tira fuori le partecipazioni di nozze, c'era tutto, tutto vero, perché c'era Massimo Giletti in vita, il nome di mia madre, di mio padre, eccetera. E era arrivata a fare le partecipazioni, ma quando tu riferisci a quello, un giorno arrivo dal portiere, mi arriva con una bussa della spesa, ha detto, che cos'è sta roba? Eh, l'ha portata a sua moglie. E io dico, ma che momma, ma io sei rimbambito, gli ho detto, ma io neanche la fidanzata, c'ho la moglie. Eh, ma sa, mi ha detto lei che è sua moglie, dico, ma da qua ci conoscevano a 30 anni, lo sai che non sono... Eh, ma voi VIP magari vi sposate di nascosto. Cioè lei veniva, portava addirittura il mangiare. E allora, finché un uomo va bene, poi io penso alla fatica delle donne di essere perseguitate, sappiamo, perché alcune vanno a finire in modo tragico. Però anch'io ogni tanto, sai, quando vedi una persona tutte le notti che tu uscivi, la mattina, attrazione fatale, è un film che io ho guardato, ho visto, è un attimo che per averti e prendere il possesso definitivo della tua vita, una donna possa fare, una donna che non, evidentemente ha dei problemi mentali, possa fare una follia. Per fortuna non è mai successo. E' ancora qui tra noi. Possiamo testimonare che sei tra noi. Senti, però, rispetto alla tua vita privata, ci hai raccontato che hai lavorato nell'azienda di tuo padre per due anni. Che era una... è un'azienda tessile. Sì, sì. In Pobre, nel Bielese sono tutte... esiste ancora perché... No, mio padre ha 90 anni. Sì. Viene, un giorno mi chiama Gigi Buffon. E mi chiama e dici, tra l'altro molto tardi, ho detto un'ora insolita, dico, che cosa succede? Pensavo fosse successo qualcosa alla Juve, eccetera, no. Mi fa... devo chiedere una cosa con te, perché mi sembra folle. C'è un industriale di Empoli che racconta che esiste un tale che si chiama Emilio Giletti, che sarebbe tuo padre, che viene in giornata da Biella, lavora tutto il giorno con i clienti, con la gente lì, poi la sera torna. Che hanno 88 anni e adesso ne ha 90. All'epoca ne avevano 80 anni. Io ho detto che non ci credo che sia tuo padre. E lui ha detto, no, guarda, Gigi, è mio padre. Cioè, mio padre appartiene a quella gente, a quella grande generazione di industriali, che secondo me, io spero viva il più lungo possibile, moriranno in azienda. Perché l'azienda è la loro vita. Cioè, mio padre non ha mai delocalizzato. Molti hanno... e questo perché è attaccato agli operati italiani. No, nel Bielese hanno delocalizzato quasi tutti. Quasi tutti. Loro Piana. Quasi tutti. Mio padre, l'azienda, ha voluto sempre tenerla lì. E secondo me, lui rimane attaccato all'azienda perché ha 50 famiglie da mandare avanti. Quindi, averne di industriali di quel tipo, che non pigliano incentivi, che rimangono lì e combattono. Però, è stato un rapporto duro. Cioè, hai lavorato per due anni, i cazziatoni non mancavano. Adesso ti racconto una cosa. Io, in realtà, ho lavorato dentro quell'azienda. Io arrivo a Roma, lascio mio padre nell'89, vado a Roma dopo un anno circa. Io ho lavorato in azienda fino all'agosto del 99. Perché cosa facevo? La fabbrica aveva un ciclo continuo, ancora oggi H24, non si ferma mai. E agosto mio padre andava in vacanza con tutti. Rimanevo io e una decina di operai. All'epoca c'erano 70-80. Quindi io facevo, non ho mai detto, ma io andavo lì, stavo un mese d'estate, un po' per stare vicino a mia madre, eccetera. E lavoravo perché credevo comunque che avevo un rapporto così intenso con la fabbrica che lo trovavo duro, ma mi piaceva. Però con mio padre è stato complicatissimo, difficilissimo. Io ti racconto un esempio breve per farlo capire a tutti. Sono le tre di notte. Quando decisi di andarmene, erano le tre di notte. Noi abbiamo una macchina alta, non dico come questi pini, ma quasi, che è il nucleo centrale di tutta l'azienda. Se si ferma quella macchina, si blocca l'azienda. Si rompe un motore di notte, alle tre ci chiamano, allora c'era un telefono rosso, no? Se c'è un'emergenza, mio padre, piglia il telefono, io ero nella stanza a fianco, dove erano vicini, quindi sento. Allora dico a mio padre, vado giù io. Ve la faccio breve, andiamo giù, chiamo i meccanici, altro che 626, il motore è su una scala di legno, una roba incredibile, il motore è a spalle, andiamo su questi 15 metri, montiamo, smontiamo, rifacciamo ripartire la macchina, poi i due ragazzi mi dicono, ci sono tutti gli arnesi da pulire. Dico, vabbè, ci siamo fatti il culo noi, adesso voi due andate a casa, il turno che arriva pulirà lui gli attrezzi. Mio padre arriva alle 7 meno un quarto, io ero rimasto lì per dare il cambio, mi dice, non mi dice niente. Bravo che avete fatto partire. Mi guarda e fa, come mai non sono puliti gli attrezzi? Allora io lo guardo e dico, vabbè, sono andati via, li ho mandati via perché li avevano svegliati alle 3 di notte, mi hanno fatto tutto il lavoro, ho detto, allora dovevi pulirli tu però. A quel punto ho capito che qualsiasi cosa io avessi fatto nella vita non sarebbe andata bene, e quindi gli dissi, domani me ne vado. Lui mi disse, le dimissioni si danno per iscritto, e io quindi conservo ancora la letta. Oggi ci vogliamo molto bene però, ma all'epoca non fu facile. Senti, ti piacerebbe fare il direttore di un telegiornale? No. Perché? Perché immagino quanto squilli, guarda il telefono, squillava per un programma, figurati squillare tutto il giorno con delle... No, 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 io poi sono un uomo di prodotto, no? A una rete sì, una rete... Fareci il direttore di rete. Mi piacerebbe farlo perché credo che con l'esperienza accumulata, perché poi tra l'altro noi abbiamo fatto anche programmi vincenti, mi ricordo uno bellissimo, Gol Battisti, dove facevamo successi fortissimi, quindi ho un'esperienza a 360 gradi, so anche cosa funziona, cosa non funziona, so soprattutto quanto si spende per fare un programma e quanto non si deve spendere, cosa che sarebbe molto utile essendo dentro la macchina, quindi so anche dove si può risparmiare parecchio se uno vuole. Va bene, allora, io ringrazio Massimo Giletti per la bellissima chiacchierata e però vorrei anche capire se c'è qualche domanda dal pubblico. Prego, se potete venire qua perché ci vuole un microfono, perché se no non si sente. Ecco il microfono che arriva, eccoci. Ho seguito la storia di Giletti con le tre sorelle e adesso gli chiedo, ma Massimo hai paura? Io sempre, quando andai in Afghanistan la prima volta, avevo visto, caro compito, molti colleghi stavano in Afghanistan, ma in realtà stavano o negli alberghi e ho chiusi dentro il compound protetti. Io avevo scelto di raccontare gli estremi, quindi ho fatto tutte le valli dove molti soldati italiani purtroppo sono morti. Io ho sempre dubitato però, quindi non avevo paura, ma l'avevo. Cioè chi non ha paura, secondo me è un incosciente, mi fa più paura a chi non ha paura perché non sa capire cos'è la paura. Se però io usassi la paura come alibi per non fare quello in cui credo, sarei come tanti altri. È chiaro che vai a rischiare qualcosa, è chiaro che quando fai una puntata laggiù nel cuore del territorio dove c'è una cultura mafiosa, e questo avviene da 15 anni, era dai tempi di Santoro che non si faceva con coraggio, una trasmissione lì, di questo sono molto fiero per il mio gruppo, perché non è facile convincere un imprenditore privato a investire in quel territorio in una serata che costa molto di più. Ecco, allora non fare più il mio lavoro come intendo io. Per fare il mio lavoro ci vuole coraggio, ma il coraggio ce l'ha chi vive là. Quindi grazie, ho paura ma vado avanti. Come hai convinto Salerno a farti fare quella puntata a mezzo uso? Salerno è il direttore della Sette. Salerno è un direttore che produce un programma, propaganda che va molto bene il venerdì sera, quindi sa cosa vuol dire produrre, sa quanto bisogna investire di soldi, e quella puntata alla fine è costata in dispendio tanto di energie, ma abbiamo contenuto i costi, e sa benissimo che certe battaglie vanno fatte fino in fondo, e per andare andando là noi l'abbiamo fatta fino in fondo, abbiamo dimostrato che avevamo coraggio, non come qualcuno aveva detto, Giretti non avrà mai coraggio di mettere piede qui. Io ci sono andati, sono andati i miei, e sono felice perché la mafia si sconfigge anche in questo modo. Le ultime due. Il rapporto con Mentana? Il rapporto con Mentana? Mentana non è semplice, avere rapporti come Mentana, perché è uno che... Io quando Mentana non venne esautorato, c'è stato un momento che non vi ricordate, non stava più qui, non stava più là, feci una pagina di un'intervista, mi ricordo, sulla stampa, dove dissi, la vera vergogna è che uno come Mentana non abbia una collocazione adeguata. Quindi io, e allora stavo in Rai, ho sempre avuto l'idea che Mentana fosse un tipo molto difficile con cui convivere, ma assolutamente un numero uno. E i numeri uno hanno anche loro limiti, anche loro caratteri complicati, ma credo che uno che faccia delle maratone lunghe così da solo abbia grandi... Cioè lo dimostra con la sua storia, poi dove è andato, ha sempre fatto bene, ha tenuto testa, anche a periodi tormentati, insomma, io sono convinto, intanto mi ha dato una mano importante, quindi io gli dirò sempre grazie, un buon rapporto. Ciao Massimo, siamo amici da tanti anni, ora una domanda un pochino più frivola, cosa pensi di Sarri alla Juventus? Sarri alla Juventus? Certo che se... Io adesso dico qui, e non voglio ampliare le cose, se due anni fa, non dico cent'anni fa, qualcuno avesse detto che l'Inter avrebbe avuto Conte come allenatore e Marotta com'è, ci avrebbero dato tutti dei pazzi, ma che alla Juve arrivasse Sarri è una roba... Però credo che siccome Sarri Sarri... Cioè la Juve ha un problema, la bellezza era diventata un problema, cioè Allegri pur se vinceva non piaceva, io ho sempre sostenuto Allegri, perché per me la cosa che conta è vincere, poi come con un gol all'ultimo istante, eccetera, però capisco che a un certo punto nel momento in cui c'è qualcosa che non va più, devi provare una strada alternativa. E Sarri, che ha fatto bene a Lempio, ha fatto bene al Napoli e credo che l'esperienza col Chelsea l'abbia migliorato molto umanamente anche nei rapporti con gli altri atleti, sia una carta sulla quale puoi scommettere, devi scommettere, ma dimenticare quanto ha fatto Allegri sarebbe molto ingiusto, perché abbiamo vinto davvero tanto. Grazie, grazie Massimo Giletti, grazie a tutti, ci vediamo presto di nuovo qua alla Versigliana, grazie. Grazie, grazie direttore, grazie, grazie a tutti, grazie. Grazie a tutti, Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti,